Il rapporto tra cibo e salute è un rapporto fortissimo. L'alimentazione nel tempo è diventata, il cibo nel tempo è passato da essere un elemento di cura a un elemento di malattia e quindi c'è un rapporto strettissimo tra la qualità alimentare e la salute delle persone. Quindi il tema della nutrizione per noi diventa un tema importantissimo, ma l'approccio è un approccio più ampio. Il rapporto cibo-salute è un rapporto che riguarda la salute dei singoli, degli individui, ma anche la salute del pianeta. Non ci può essere un cibo di qualità se questo cibo non rispetta anche l'ambiente, il territorio, la natura. Purtroppo oggi l'uso della chimica, l'uso dei conservanti sono un elemento che fa sì che purtroppo l'alimentazione diventi un'alimentazione che è causa di molte patologie, molte malattie. Ecco, noi dobbiamo recuperare un rapporto positivo con il cibo. Il cibo deve tornare ad essere un cibo che fa bene alle persone e che fa bene all'ambiente, che fa bene al pianeta.